Le bande di ladri non concedono tregui e sfidano anche la task force messa in campo dalla prefettura. Nel mirino dei malviventi non solo gli alloggi nei comuni della provincia, ma anche il capoluogo. Gruppi criminali che agiscono di giorno e di notte, fronteggiando ormai a viso aperto le forze dell'ordine. I topi di appartamento puntano in Natale e in questi giorni stanno seminando paura e tensione nell'Interland avelinese. Ladri e cadavellino dopo aver razziato e smembrato auto e bici elettriche cercano il colpo grosso e mettono nel mirino le viglie situate nelle contrade, ma anche attività commerciali. Bande che stanno battendo a tappeto la città. Un ride si è registrato nella notte ai danni di un noto albergo ristorante del capoluogo. La banda, dopo aver forzato una porta di servizio, è riuscita a introdursi nel deposito dell'hotel, trafugando un set completo di stoviglie d'argento e preziosi piatti di ceramica. In gente bottino per i malviventi che sono riusciti a far perdere le loro tracce prima dell'arrivo delle volanti di polizia. Ladri che non fanno sconti a nessuno nella tarda mattinata di ieri, infatti un'anziana recatasi a fare la spesa quando è rientrata a casa in via Tagliamento, ha trovato le stanze del suo appartamento sotto sopra. I ladri, dopo averla pedinata, approfittando dell'alloggio e rimasto vuoto, hanno portato via oro e denaro. L'anziana, in lacrime, ha denunciato il furto alla polizia.